Riveliamo tutti i gol dell'ultimo turno ricampionato del Girone e della Serie D partendo dallo stadio Casini di Trestina dove era di scena il tau Alto Pascio che passa in vantaggio con l'attaccante rivelazione dell'anno Andoni. Il pareggio degli alto Tiberini e del talentuoso Dinolfo con un sinistro chirurgico. La capolista pianese è una squadra che non molla mai e proprio lo scadere con Couco trova il verso giusto per avere ragione del Sandonato Tavarnelle. Gol e Capriola per l'attaccante Amiatino. Il Seravezza non fa sconti e passa a San Giovanni Valdarno. Sconfitta che costa la panchina Bencivenni apre Camarlinghi e prima del riposo il risultato è blindato da Brugugnioni. Botta e risposta in Garfagnana con Carloni che regala il vantaggio al Ghiviborgo ma l'Orvietana ha il carattere di Fierucci e Marsili realizza il pareggio. Colpo del Gavorrano a Figline. Masini spinge in mare in mani ma Torrini di testa pareggia per i Valdarnesi. Talla Suare chiude i giochi a inizio ripresa. Tutto facile per il Livorno contro il Cenaia. Meng apre le danze. Il raddoppio Labronico e Dinardi. Sussulto della matricola Pisana con Macchia. Prima del triplice fischio Brenna chiude i giochi. Botta e risposta tra Mobiliari Ponzacco e Grosseto. Cretella porta in vantaggio i Grifoni ma Panattoni rovina la festa. Il Grosseto chiude la rocambolesca sconfitta del Montevarchi con il Real Querceta. Viene e tira il segno per i versigliesi. Priore su calcio di rigore riporta in parità il risultato. E poi è Pardera che risolve da dentro l'area portando in vantaggio gli Aquilotti. Sembra fatta ma nel recupero succede di tutto. Il Real pareggia con questo rigore di podestà e addirittura quando l'arbitro starà per chiudere la partita l'ex San Giovannese Vanni segna il gol partita e per Vanni sarà anche la rete dell'addio.